Voglio presentarvi una cosa pazzesca, il birrificio artigianale indipendente di Como insieme alla falegnameria eroica biancospino, ho detto bene Michele, benissimo abbiamo creato insieme questa bellissima partnership tre oggetti fantastici che fanno parte di legno antichissimo che poi vi racconterà benissimo Michele da come è stato trattato abbiamo tre profumazioni fantastiche, uno al piumon mugo, uno al mughetto e uno al legno di sandro e adesso insieme alla nostra fantastica birra artigianale che il nostro mastro birraio Andrea Bravi ha preparato vi facciamo vedere questa bellissima cosa che farete anche una grande e spassosa figura con i vostri amici la inserite in questo modo, è solo una questione di equilibrio, ecco fatto, guardate che roba e con questo fate una grandissima figura per il Natale per i vostri gadget e i vostri amici Michele, è l'iniziativa che sostiene la palegnameria eroica del biancospino che sarà San Fermo e quindi il birrificio ci ha dato la disponibilità di commercializzare questa nostra iniziativa un po' anche goliardica realizzata dai nostri ragazzi che sarà alla base della raccolta fondi per completare i lavori della nostra palegnameria su cui stiamo sviluppando degli splendidi interventi di social redesign quindi valorizzando e ridando nobiltà a materiali vecchi e soprattutto valorizzando le persone che ci lavorano dentro quindi una cosa fantastica perché avete la birra e un bellissimo gadget e soprattutto fate un'azione a livello sociale e fate felice anche queste persone che si stanno impegnando da molto tempo per rimettere in sesto questa cosa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!